Sì, è comprensibile. Vi starete chiedendo come mai, perché questa foto, perché la foto in cui il Milan festeggia a Sassuolo il suo diciannovesimo scudetto. Ve lo spiego subito. Quest'oggi, mentre navigavo sul web, mentre andavo a cercare, a spulciare informazioni, indiscrezioni in Italia, in Europa, nel mondo, per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda le news legate al mondo rosso-nero, mi sono imbattuto sull'app di OneFootball in un articolo interessante scritto da Calcio in Pillole, che ora leggiamo insieme, lo commentiamo insieme. Questa sarà l'estate in cui nascerà il nuovo Milan, un Milan basato sul progetto di El Moneyball e guidato dagli uomini di fiducia di Cardinale Escaroni. L'obiettivo? Vincere la corsa alla seconda stella prima dei cugini e rivali dell'Inter. Un traguardo non semplice da raggiungere, ma non c'è dubbio che il nuovo Milan è e sarà un club davvero ambizioso. 100 milioni per il mercato, settimana decisiva per Pulisic, Reinders e Musa. Come detto precedentemente, l'obiettivo del nuovo Milan targato Scaroni-Cardinale prevede la conquista della seconda stella prima dell'Inter. Un obiettivo che getta le proprie basi già durante la sessione estiva di calcio-mercato, dove il club rosso-nero è pronto a reinvestire tutti i 70 milioni ricavati dalla sessione di Sandro Tonali al Newcastle. Cifra che, come riporta l'edizione odiale di Tutto Sport, verrà aggiunta ad un budget iniziale che era stato stabilito in 35 milioni di euro. Un budget complessivo di oltre 100 milioni di euro che aiuteranno il Milan a colmare le lacune presenti in Rosa, garantendo a Pioli una squadra competitiva. Dopo l'off-tooth-cheek, costato appena un quinto del budget, i rossi-neri continuano a lavorare sui più fronti e questa potrebbe essere la settimana decisiva per i prossimi rinforzi. Ci sono già i sì di Pulisic, di Reinders e Musa. Quindi, questo è l'articolo, ribadisco, che trovate su OneFootball, scritto da calcio in pillole, che lancia subito una provocazione, passatemi questo termine, una provocazione positiva, una provocazione che dice, il Milan punta ad arrivare prima dell'Inter a vincere la ventesimo Scudetto. E quindi la domanda, e qui mi servono le vostre risposte, le vostre considerazioni, il vostro pensiero, è intanto, l'obiettivo del Milan, reale, sarà quello di vincere lo Scudetto? Cosa ne pensate? È una cosa fattibile? Vedete una rosa che si è integrata con questi nomi, quindi Musa, Reinders, Ciweze, Pulisic che sia? Vedete una squadra competitiva che possa trionfare e vincere nuovamente il campionato? O serve qualcosa di più? C'è qualche squadra maggiormente attrezzata? Sono tutte domande che ovviamente bisogna porsi, che ognuno di noi, guardando i movimenti delle altre squadre, cerca di ipotizzare, di stilare una propria classifica. E perché non sognare? Perché il Milan, magari figlio comunque già di una squadra, di un organico, di un buon organico, con delle buone individualità, perché se non colma, con un mercato intelligente e in un puntella la rosa, non possa trionfare. Certo, non sarà facile, c'è un Inter molto forte, c'è un Juventus che vorrà sorprendere, c'è un Napoli che comunque, nonostante il cambio, l'allenatore proverà a fare un ottimo campionato, quindi sarà un cambiato sempre molto difficile. E andiamo sempre incontro a cambiamenti sempre più omogenei. Abbiamo visto come anche quella passata stagione sono squadre che hanno sorpreso, squadre che hanno fatto tanti, tanti punti. E quindi questo articolo, il budget dei 100 milioni di euro per vincere la seconda stella, sarebbe sicuramente molto bello. Sarebbe un qualcosa di fantastico vincere a ridosso un anno e mezzo fa, abbiamo vinto lo squadrato, rivincere un'altra volta. Però bisogna avere sempre i piedi per terra, sognare bello, bisogna guardare sempre all'orizzonte, ma bisogna essere anche consapevole che c'è tanto, tanto, tanto lavoro da fare. Fatemi sapere amici, di Rubrica Rosso Nera cosa ne pensate, se può essere qualcosa di fattibile, e come sempre cliccate like e iscrivetevi al YouTube di Rubrica Rosso Nera.